Ed eccoci tornati in diretta con la nostra puntata di Voce delle Chiese. Diamo il benvenuto al nostro primo ospite, pastore Gregorio Plescan. Buongiorno, Gregorio. Buongiorno, buongiorno, grazie. Benvenuto, bentornato in Voce delle Chiese. Pastore attualmente in servizio a, vediamo se mi ricordo, Alessandria, Bassignana e San Marzano Oliveto. Perfetto, perfetto. In questo caso però, Gregorio, ti abbiamo invitato perché sei anche coordinatore della Commissione delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi Culto e Liturgia. Commissione che in quest'ultimo anno ha lanciato una novità, ovvero una newsletter, una rivista liturgica dal titolo Parole e gesti per dire Dio. Come è nata quest'idea? Intanto due parole anche su che cos'è la commissione di cui tu sei coordinatore. Dunque, la Commissione Culto e Liturgia è una commissione delle nostre tre Chiese Battiste, Petodiste e Valdese che si occupa appunto della liturgia e del culto, cioè di proporre sia dei linguaggi nuovi, sia svecchiare i linguaggi del passato, soprattutto rispetto al linguaggio inclusivo maschile, femminile, eccetera, eccetera, che l'anno scorso, proprio in questi giorni, presentava l'edizione di due volumi di liturgia evangelica. Forse qualcuno di voi ha avuto modo di vederla, magari sui pulpiti, due libri, due volumi che contengono il primo, le liturgie di tutte le domeniche dell'anno e le sante cene e il secondo tutto il resto, cioè matrimoni, battesimi, funerali, conservazioni, culti particolari, eccetera, eccetera. È stato un lavoro molto lungo, molto impegnativo, molto interessante che l'anno scorso, appunto all'Assemblea sino dell'anno scorso, abbiamo voluto presentare proprio perché era un lavoro BMW, come si dice in gergo. Terminato questo lavoro veramente molto impegnativo, ci siamo domandati che cosa fare. Adesso rimaniamo senza lavoro, quindi vi siete subito dati un altro obiettivo. Sostanzialmente sì. Bisogna premettere, forse non tutti sanno, che le liturgie valdesi sono approvate dal sinodo, cioè devono essere approvate dal sinodo, quindi naturalmente il nostro è sempre un lavoro di suggerimento, di proposta, ma non di, tra virgolette, vincolo. E quindi abbiamo pensato a fare questa, diciamo, rivista online, gratuita, che riprende un progetto che si era concluso molti anni fa da parte della federazione, che si chiamava Rete di Liturgia, in cui c'erano soprattutto raccolte di credi, di confessioni di fede, eccetera. Abbiamo pensato di riproporlo però in una veste che fosse, diciamo, un po' più agile. Quindi abbiamo scelto quattro periodi dell'anno, cioè il periodo dell'Avvento, il periodo di Pasqua, quello di Pentecoste, quello adesso della settimana del rispetto per il creato. E per ognuno di questi periodi dell'anno proponiamo delle riflessioni, delle preghiere, delle liturgie, un commento ad alcune opere d'arte classiche. Poi naturalmente ci sono degli eventi speciali, per esempio quest'anno cadeva l'anniversario della scomparsa della pastora Dorotea Zolle, una pastora tedesca degli anni 60-70 del Novecento, molto attiva, quindi abbiamo cercato del materiale per ricordarla antinamente. Quindi sono degli strumenti, dei materiali che le chiese possono utilizzare, seguendo anche appunto dei momenti tematici, diciamo così, dell'anno e che quindi rimangono un po' fedeli anche all'attualità. La cosa molto bella che ho notato è che ci sono anche degli spunti, ad esempio per i bambini, quindi dei culti o comunque delle parti di culto pensate per un pubblico più giovane. Assolutamente sì, vuole essere uno strumento agile, gratuito, che è distribuito solo via internet, quindi se qualcuno vuole stamparselo se lo stampa, se qualcuno preferisce lasciarlo lì va bene lo stesso, insomma quindi non richiede né inquinamento né particolari costi. Questo ci permette anche di non avere alcun vincolo di dimensione, perché appunto possono essere 20 pagine, possono essere 30, possono essere 40, sono comunque tutti degli interventi in sé brevi. Certo, e si può utilizzare la parte che più interessa e che più è utile. Se qualcuno volesse ricevere questa rivista liturgica, parole e gesti per dire Dio, come può fare Gregorio? La cosa più semplice secondo me è che lo richieda direttamente a me, mandandomi un'e-mail, il mio indirizzo e-mail è come tutti i nostri l'iniziale... gplescan-chiesavaldese.org .org oppure attraverso la tavola, attraverso, voglio dire, è abbastanza facile poi reperirci, magari qualche, il pastore o la pastora qui, chi è interessato fa riferimento, che mi gira l'informazione, eccetera. Quindi adesso c'è l'appuntamento con il Tempo del Creato, con questo momento di riflessione sull'ambiente. Dunque, è appena uscito il numero sul creato e siccome la nostra rivista ha avuto più successo del previsto, potremmo dire, abbiamo deciso di fare anche un'edizione speciale sulla riforma. Ah, quindi fino a ottobre. Fino a ottobre, quindi uscirà, si spera, ai primi di ottobre per permettere poi alla gente di vedere cosa merita di essere... Bene, grazie mille, Gregorio Plescan, pastore e in questo caso coordinatore appunto della commissione dedicata al culto e alla liturgia delle chiese battiste, metodiste e valdesi. Buon lavoro. Grazie, arrivederci e a risentirci a tutti. Grazie. 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 Grazie.